Aggiornamento di Sheldani del per la Gerarchia Spirituale e la Federazione Galattica. 10 maggio 2011. Selamatia Rin. Torniamo. I maestri Ascesi continuano ad avere una funzione importante nel vostro mondo. I nostri alleati di Terra con il loro aiuto divino, si stanno preparando per le grandi trasformazioni, che arriveranno tra non molto. Stiamo preparando il nostro personale per attuare una serie di interazioni più dirette con i vostri nuovi governi. Queste interazioni includeranno la fase del nostro riconoscimento formale e le modalità per l'annuncio delle tecnologie, che verranno da noi rilasciate a vostro beneficio. Stiamo anche valutando ciò che risulterà prioritario per sostenere la madre Terra e i suoi ecosistemi. Un certo numero di ecosistemi sono diventati critici, abbiamo ritenuto opportuno predisporre quanto necessario per risolvere delle terribili situazioni, come ad esempio nel Golfo del Messico e nell'Artico. Le inarrestabili azioni della vostra ultima cabala oscura hanno notevolmente aggravato la situazione di queste due aree, ma esistono diverse zone altrettanto sensibili. Siamo pronti a fare la nostra parte per riequilibrare, in via temporanea, la stabilità di Gaia. Stiamo inoltre apportando gli ultimi ritocchi alle presentazioni iniziali, che i nostri portavoce stanno per fare a tutti voi. Questi annunci saranno scioccanti e richiederanno pertanto una esposizione adeguata, che risulti sincera e credibile. Ci siamo inoltre riuniti con i nostri alleati di terra per decidere dove posizionare gli ultimi membri della cabala oscura, abbiamo scelto diversi luoghi dove possono essere custoditi durante l'esposizione delle prove, che porteranno presto ad un loro arresto in massa. Questo sarà fatto per convalidare la legittimità dei nuovi governi di transizione. Un gran numero di annunci segnerà i primi giorni di queste nuove amministrazioni, fra questi ci sarà la rivelazione di una ingente quantità di fondi non dichiarati, che dovranno servire come base per la risoluzione dei debiti governativi e per il ripristino di molti servizi essenziali, tra cui l'educazione dei vostri bambini. Altri fondi verranno usati per modernizzare e per preparare questi governi al trasferimento delle loro tecnologie segrete, per farle diventare di dominio pubblico. In aggiunta, ci saranno imponenti misure di remissione del debito e l'istituzione di una politica della trasparenza. Quella che vi sarà offerta sarà una grande sfida che richiederà una grande dimostrazione di responsabilità. Siate pronti, carissimi, per sostenere questi vitali cambiamenti, aiutando la vostra società in questo passaggio verso la piena consapevolezza. Salutiamo tutti voi. Noi siamo i Maestri Ascesi. Noi veniamo oggi, cari fratelli e sorelle, per parlarvi di alcuni aspetti del nuovo sistema finanziario, che non vi sono stati ancora presentati. Prima di tutto, diamo uno sguardo alle nazioni Brick Brasile, Russia, India, Cina. I nostri alleati di terra, comprendendo la loro importanza nell'attuazione della riforma monetaria, hanno segretamente assegnato a loro una serie di compiti chiave. Il Brasile è un paese determinante per due motivi. In primo luogo, è essenziale, che al bacino amazzonico venga restituita la sua importante funzione ecologica, ripristinandone pienamente la sua capacità funzionale. In secondo luogo, il Brasile ha bisogno di fornire uno stile di vita decoroso alla sua vasta popolazione. La riforma monetaria e la remissione del debito gli darà le risorse per conseguire entrambi gli obiettivi. Lo stesso vale per l'India e la Cina. Qui, grandi gruppi spirituali avranno il compito di assistere le popolazioni, assicurando a più di un miliardo di persone una nuova condizione di prosperità. Ancora una volta, la riforma monetaria e la remissione del debito saranno le fondamenta su cui i nuovi governi potranno avviare le politiche per affrontare queste sfide colossali, in cui il punto focale sarà proprio una grande rinascita a livello spirituale. Questo ci porta alla Russia. La Russia ha già contribuito a forgiare una nuova politica monetaria per l'Europa. Le sue immense riserve d'oro e la posizione geografica, che abbraccia gli orali e il Caucaso le consentono di avere un ruolo di importante mediatore nella partita destinata ad introdurre questo nuovo programma monetario. Abbiamo lavorato con la Russia per predisporre numerosi importanti depositi d'oro, per metterli in sicurezza e per proteggerli dai pericoli. Inoltre, abbiamo utilizzato le speciali energie della zona del Caucaso per proteggere il resto del nostro sistema globale di depositi d'oro dagli attacchi degli oscuri. Queste attività sono state rese possibili da un gruppo specifico all'interno della Russia, che abbiamo più volte incoraggiato nel corso degli anni. Questo gruppo è destinato a formare uno speciale governo di transizione, con l'assistenza amorevole dei nostri alleati di terra, la Russia sta usando la sua nuova posizione economica a livello mondiale per aiutare le altre nazioni Brick nei loro sforzi e per convincere gli altri ad adottare un nuovo sistema monetario globale. Il processo, che sta portando ad un cambiamento dei governi sta procedendo, cari fratelli e sorelle. Stiamo assistendo ad un'ultima serie di accordi legali, che includeranno una massiccia adesione al nuovo sistema economico, da parte di una buon numero di nazioni, che si trovano in accordo con le proposte formali delle nazioni Brick, e la firma dei documenti, che daranno inizio ad un cambio della guardia in una serie di nazioni. Questi ultimi documenti contengono le disposizioni legali per porre fine al lungo dominio delle corporazioni degli Stati Uniti e per ridare all'America la sua originale forma di governo costituzionale. Questi sviluppi si associano al completamento dei dettagli, che porteranno a definire il valore contabile dei vostri fondi di prosperità. L'obiettivo è quello di portare a termine entrambi i processi contemporaneamente. Potremo poi concludere la fase finale dei nostri programmi di prosperità ed iniziare, insieme con la Federazione Galattica, a preparare i nuovi governi alla divulgazione. Fatto questo, il nostro compito sarà quello di informarvi in modo esaustivo, per farvi conoscere le prossime tappe del vostro cammino divino verso la piena consapevolezza. Il vostro cammino verso la piena consapevolezza è stato la nostra missione primaria nel corso dei millenni. Tutti noi ci siamo dedicati, ciascuno a proprio modo, personalmente e quotidianamente all'illuminazione spirituale dell'umanità. Abbiamo usato i buoni uffici della gerarchia spirituale di Gaia per diffondere la saggezza e la conoscenza necessaria, per farvi avanzare nella consapevolezza. I nostri messaggi e la nostra guida vi fanno di giorno in giorno più consapevoli, su chi siete veramente. Il vostro progredire nella consapevolezza è un preliminare necessario per ciò che è stato previsto per voi dal cielo. In Agartha si cela la vostra destinazione finale. Qui troverete i mentori personali, ben addestrati, che vi sono stati assegnati dalla Federazione Galattica e dal cielo, per farvi acquisire nuovamente la piena consapevolezza. Quindi riceverete il nostro saluto e il benvenuto tra noi. Noi, tutti noi, abbiamo la responsabilità dei specifici compiti necessari per sostenere Gaia e per diffondere la Luce in tutta la creazione. La missione di primo contatto si è concentrata su Madre Terra. Abbiamo tenuto sotto controllo, in particolare, il numero sempre crescente di maremoti nel Suo e del Pacifico, nell'Atlantico e nell'Oceano Indiano. Questi movimenti stanno iniziando a modificare gli schemi tradizionali di ab-subduzione delle placche tettoniche del Pacifico Meridionale, dell'Oceano Indiano Centrale, e nella parte centrale dell'Oceano Atlantico. Questo fa sicuramente presagire che i terremoti rilevanti accadranno a breve vicino all'Asia o nel bacino del Pacifico settentrionale. Una serie di profonde risonanze di uno specifico tipo sono echeggiate in queste regioni. Stiamo lavorando con le diverse parti interessate per ridimensionare ciò che sembra preannunciare un sisma davvero colossale, ed alcuni pericolosi tsunami di lunga portata. Questi fenomeni sono solo un avviso da parte di Gaia, per dire a tutti voi che questo è il momento in cui dovete prestare attenzione, per poter prendere coscienza del sorgere di una nuova era. Fate quanto necessario per prepararvi, e per accettare il fatto, che voi non siete soli. Sappiate che siamo qui, pronti a rivelarvi una serie di fatti di vitale importanza. I Maestri Ascesi sono quasi pronti a cambiare la vostra realtà in un batter d'occhio. Questo mondo nuovo basato sulla consapevolezza, vi farà visitare la galassia, per uno scambio di saluti e per completarvi nel vostro nuovo se interiore. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che illimitate risorse e l'infinita prosperità del cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gayun. Selamat Yah, in siriano siate uno nell'amore, siate nella gioia. Traduzione Gualtiero Costanza 2003